Aveva l'area di poter essere un derby tra retini l'elezione del nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Un confronto tra il presidente uscente Marcello Nicchi e l'ex presidente della sessione retina Carlo Polci. Nelle ultime settimane però la candidatura di Polci non è arrivata al quorum delle 50 firme necessarie per poter presentare il proprio nome. Ecco allora arrivare dal Veneto la candidatura di Antonio Zappi, 51 anni, responsabile del Servizio Ispettivo Nazionale dell'AIA. Zappi vanta l'appoggio di Stefano Braschi, proposto come vicepresidente. Zappi sfiderà quindi Marcello Nicchi, giunto al suo terzo mandato. A Nicchi non mancherà l'apporto dei suoi concittadini. È pressoché scontato infatti il voto a favore del presidente uscente da parte della sezione retina. A Roma prenderanno parte al voto sia il presidente degli arbitri retini Sauro Ceroforini che il delegato Giancarlo Chiappini. La parola alle urne. Domani è attesa la fumata bianca e soprattutto il nome di chi guiderà la sezione AIA nel prossimo quadriennio.